Allora, comunque Giucas non ha capito che era signorito. Giucas, ma hai capito che ero io che sono venuto a trovarvi? Quando ci siamo venuti a trovare? Vedi, vedi! Vabbè, ciao. Ma non avevi il capello? Ciao, ciaone, ciaone. Visto. Cioè... Ma scusa. È grave però questo. Kabir! Kabir! Povero Kabir! Tu hai capito che ero io che sono venuto a trovarvi? Hai capito che ero? Che era metto signorini. Do you understand? Sì, sì, sì. Alfonso. Alfonso. Alfonso, mi alfonso. Alfonso, sì. Quindi, comunque... Scusa Kabir, puoi spiegare a modo tuo a Giucas chi è che è venuto a trovarlo? Puoi spiegarmi che è venuto a trovarci? Ehi! Ehi! Sentiamo, bello! Lui... Ma lui dice... Mi dice a me che c'hai capelli, ma non... Era senza capelli. No, no, questa è una storia. Ah, è storia. Va bene. Era Alfonso Signorini. Scusa, allora sei lontano riconosciuto, Alfonso! Scusa! 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 Scusa!